Ed ora un'altra intervista allo psichiatra e scrittore Massimo Fagioli che parla del suo nuovo libro dal titolo Left 2009, una raccolta di articoli apparsa sul settimanale omonimo. Tra i temi trattati, processi della scrittura e dell'analisi psicoanalitica, l'immagine della donna nella società contemporanea, le nuove tecnologie, il professore ribatte all'accusa di essere un plagiatore. Vediamo questa intervista di Francesco Gatti. Se io mi addormento dopo aver visto 20 minuti di squadra speciale, io non sogno. Professore, buongiorno. Siamo qui per parlare del suo nuovo libro che è una raccolta di articoli usciti sul settimanale Left. Gli articoli usciti nel 2009, li pubblica l'Asino d'Oro. Uno degli aspetti più affascinanti del libro, secondo me, è il suo modo di procedere nella scrittura. Ovvero, sembra sganciarsi dalla razionalità, un po' con mente associativa, con l'intuito, col sogno. È così? È così, è così, veramente così. Io non so se dire mi vanto oppure osservo anche me stesso che io non ho pensieri prima di mettermi a scrivere. Mi metto a scrivere e a un certo momento le cose vengono, tanto che dico, paradossalmente, la mano scrive da sola. Poi lo rileggo e dico, interessante oppure no, non vale niente, eccetera, eccetera. Ma il percorso della scrittura è simile a quello dell'analisi della mente umana? Beh, questa è una domanda difficile, l'analisi della mente umana, ma credo di sì. Credo adesso che ci penso, io sento le parole che descrivono in particolare al 90% un sogno. Il cardine delle sequeste mostruose sedute di psicoterapia in cui ci sono 150 persone. E descrivono, ecco, ho trovato la differenza assoluta tra descrivere le immagini oniriche che uno ha fatto la notte, il giorno prima, tre giorni prima, e l'interpretazione. Il linguaggio dell'interpretazione è completamente diverso dal linguaggio della descrizione. Il linguaggio della descrizione è, non voglio operare parole troppo forti, insomma, perché ripete quello che ci hanno insegnato la madre, il padre e la scuola. Potrona, divano, panca, orchidea, eccetera. E viene ripetuto quasi come un'ecolalia. Nell'interpretazione, invece, io devo trasformare l'immagine descritta in pensiero verbale. Allora, devo tirar fuori quello che c'è di originale dal dentro di me, fin dai tempi della nascita. Perché il cardine fondamentale, rivoluzionario, è che il pensiero umano nasce dalla realtà biologica. Non c'è nessuno spirito santo che scende dal cielo a fare il pensiero umano. Nel suo libro, in questo Left 2009, mi sembra in evidenza il tema dell'identità della donna, anche. C'è il titolo. Questo è tutto il lavoro della mia vita, di 40 anni di analisi collettiva, di 14 volumi, il cardine. Nel luogo occidentale, nel pensiero razionale del mondo greco, a partire da Platone, che è il cardine fondamentale, che osannano tanto, c'è la negazione della donna. C'è che la donna non è un essere umano, o è un subumano, è chiaro, d'accordo. E questa è la mia grande lotta di rifiuto, sia della religione, in cui c'è la stessa cosa, sia della razionalità, dell'identità umana come razionalità, cioè solo della reglia, della coscienza, senza l'altro terzo di vita, che è il mondo senza parola, del sogno, che è del sogno. Dunque donna funziona alla procreazione, mentre tra uomini c'è la connessione vera, in questi pensatori. Siamo ancora alla cosa che c'è la grande scissione, o c'è la vestale, la casta che vogliono la casta, o c'è la produzione di altri individui. Chiaro, nel mondo antico c'era una mortalità infantile enorme, c'era una guerra in continuazione, quindi c'era bisogno di produzione di esseri umani, perché la donna doveva fare una ventina di gravidanze nella sua vita. Una donna che fa venti gravidanze è un animale di riproduzione, non ha nessuna identità umana, gliela distruggono completamente. Adesso le cose sono molto cambiate, direi, ma nella mentalità dei pensatori, tra virgolette, è la stessa. Le va di rispondere alle accuse, ormai di qualche anno fa non se ne parla più tanto, che ogni tanto ricorrevano di essere un plagiatore e il capo di una specie di setta. Ci vuole dare il suo punto di vista? Ma appena appena abbiamo accennato prima, che è proprio il presidente della società di generale psicoanalisi, dice che la società di generale è una setta. E quelli che, dico, ma loro poi conoscono la proiezione, dite setta a me. Quando vi faccio delle sedute, che iniziano assolutamente libere, può entrare chi che sia, salvo il delinquente che vuole rompere, eccetera, eccetera. Seduta, chiudo e poi tutti se ne vanno per conto proprio. Noi non ci vestiamo tutti alla stessa maniera. E non siamo tutti in un club, come ho fatto leggere, dice il presidente della società di generale psicoanalisi. Un club chiuso, cioè una setta religiosa che ha passato cent'anni ad adorare Freud. Ma io lo dissi quarantacinque anni fa. Freud è un cretino. Qui io mi sono trovato di fronte a delle violenze continue, di, adesso senza fare i nomi, ma di giornalistelle da quattro soldi, che dice il guru, il non guru, come se io non avessi una teoria sulla realtà umana ben precisa, sviluppata, portata avanti in 60 anni. Io so tutta una formazione psichiatrica, che i psichialisti non hanno. Io ce l'ho, è chiaro. E quindi c'è una teoria. Il guru non ha nessuna teoria. È un santone indiano. Però lo sfregio, continuo. Si è posto il problema di come la tecnologia sta cambiando le nostre vite? La mia opinione è che è una vita che io lotto contro questa cosa. Che poi è stata anche da Kubrick, eccetera, tutta la tragedia, per cui la tecnologia, invece di essere al servizio dell'uomo, è diventato l'uomo al servizio della tecnologia. Si è rovesciata la situazione, è il feticismo di Marx. Lui diceva che era il danaro che poi veniva adorato, indipendentemente dal fatto che è un mezzo soltanto, per fare i rapporti senza lo scambio di cose in natura. La gente si mette a ridere perché io scrivo con penna e inchiostro. Non ho il coraggio, non sono un eroe, perché quasi quasi scriverei con la penna d'oca, per conservare, eccetera, perché la calligrafia si è persa. Quando la calligrafia è una caratteristica personale, della propria originalità della nascita. Di fatti le banche chiedono la firma e la firma dice che quella è, e non è, imitabile. È chiaro, è proprio una cosa originale, personale di ciascuno, scomparso. Adesso c'è la datilografia sul computer. Quando torno dopo il seminario alle 10, 10 e mezzo, eccetera, e accendo la televisione, dopo un quarto d'ora mi addormento. Perché c'è la fotografia della realtà. Non c'è nessun movimento. Devo trovare il film particolare, quelli che chiamano film d'autore, e poi non di tutti gli autori. Perché mettersi lì significa non pensare. Se io invece mi straio per rilassarmi sul divano, quando torno dal lavoro dopo 5 ore di analisi collettiva, e con tutta la dinamica, tante volte violentissima, di transfert e contro transfert, non è uno scherzo, rievocare le cose della prima infanzia, dei primi mesi di vita, quando le delusioni fanno un odio, lì vengono fuori tutte quante. Però se non la accendo, io penso, addirittura, adesso non vorrei fare un paradosso, posso addormentarmi e sognare. Alla attrazione! Alla attrazione! Alla attrazione! Grazie a tutti